Si ritorna lentamente alla normalità con cautela e attenzione. Super green pass con durata illimitata, nuovo sistema per le quarantene, dimezzate a 5 giorni anche per i non vaccinati, per la dad degli studenti ritornano tutti in classe. E dunque addio all'obbligo delle mascherine in zona bianca, si sta discutendo anche per abolire la regola per le zone rosse e arancioni. Si ritornerà anche in discoteca con una capienza però ridotta. Il percorso delle date per le quali scatteranno le nuove regole. Dalle 7 febbraio, chi ha effettuato la terza dose o la dose booster, la durata del green pass diventerà illimitata. L'11 febbraio cessa l'obbligo delle mascherine all'aperto in zona bianca e potranno riapire le discoteche però con una capienza al 50%. Il 15 febbraio gli ultracinquantenni potranno accedere al lavoro solo con un certificato di vaccinazione o guarigione, in caso contrario arriverà una multa direttamente a casa dall'ufficio delle entrate di 100 euro. Il 15 di giugno ci sarà lo stop all'obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia e intanto il 31 di marzo fino a questo momento cesserà lo stato di emergenza. Quindi decadranno alcune misure prese per reagire all'emergenza sanitaria. Resta valido dove previsto l'obbligo del green pass. Grazie a tutti.